La vicenda Leonardo, come da noi ha annunciato ripetutamente, si potrebbe risolvere con una netta presa di posizione del Governo, riequilibrando i pesi produttivi di un settore assolutamente trainante negli scenari economici nazionali e internazionali. Leonardo è uno dei simboli stessi dell'innovazione tecnologica italiana nel settore dell'aeronautica e della difesa. I maggiori siti produttivi, come sempre, sono concentrati nei poli settentrionali, ma tradizionalmente in questo settore hanno contato molto sia Napoli che il polo pugliese con i siti di Foggia, Brindisi e Grottaglie e Montegasi. Quest'ultimo nato nel primo decennio degli anni 2000 per la particolare congiunzione di necessità e soluzioni pronte, vide la Regione, con Raffaele Fitto, presidente, portare avanti la realizzazione dello stabilimento e del relativo allungamento della pista dell'aeroporto a tre chilometri per il progetto Dreamliner, il Boeing 787 che avrebbe dovuto avere un futuro radioso e infinito. Poi pandemia, lotta industriale interne agli States e problemi di sicurezza hanno rallentato di molto le performance di questo prodotto. Oggi pensare alla diversificazione produttiva diventa indispensabile. Sono scelte industriali, ma che devono essere sostenute dalle scelte del governo in carica. Leonardo produce tanto. In arrivo la commessa per i nuovi 24 Eurofighter, per l'aeronautica militare, una serie cospicua di modelli di elicotteri per tanti clienti, il convertiplano e poi i droni, missili e altri congegni utili alle forze armate. Certo, non è semplice. Per allestire, per esempio, la catena di montaggio per il convertiplano ci vorranno 18 mesi, ma bisogna vegliare affinché non si giochi la solita partita, e cioè riduciamo i pesi a Grottaglie e Monteiasi e magari trasferiamo la mano d'opera qualificata altrove. Stesso discorso vale per il sito di Taranto a Paolo VI, l'ex Space Software Italia. Parliamo di matematici e fisici a disposizione delle tecnologie più avanzate e riservate. Una chiusura di questo sito va ostacolata con la forza della ragione.